Signori, ci stiamo preparando per andare in onda oggi che è l'8 gennaio, eh l'8 gennaio scusa, oggi è l'8 dicembre d'Immaculate Day e siamo qui Traversa Imperatrice 28 ecco c'è Chiara che è arrivata un po', leggermente in anticipo è arrivata Chiara ma con chi stai parlando Chiara? Prima di andare in onda non bisogna fare con un grande DJ però non posso dire il nome eh non lo dire perché sai dove va a finire questo video non posso dire, però è un grande DJ sicura? Allora attenzione, oggi è una bella giornata, eh fai gli auguri a tutte le Immaculate ora ha cambiato nome, posso dirlo? Bash Dash ok, fai gli auguri di Immaculate auguri no, auguri, auguri articola, sei una professionista Chiara auguri, aspetta DJ, falli anche tu, aspetta chi è? aspetta ragazzi, questo è uno scupa vai e vai e vai, Bash, di auguri eh, auguri eh, ma chi, ma si può dire il nome? Bash Dash no, io ho capito chi è e no, è un grottino allora, questo è il portone che ci condurrà agli studi di Radio Kis Kis Italia attenzione non ci risponde nessuno nessuno, ragazzi hai fatto l'albero? certo io no nell'albero e nel presetto oh no, io sì che tristezza non c'è nessuno ragazzi, non ci risponde nessuno ma soprattutto non c'è nessuno neanche nei dintorni per prendere un caffè cioè, non c'è niente è tutto vuoto la gente è partita alla faccia della crisi e noi siamo qui a lavorare e noi qui perché io voglio lavorare e tu? oh, guarda, nel palazzo c'è l'albero eh, ma non c'è nessuno auguri no, ma è grave che devo chiamare?